Salve telespettatori, benvenuti a una nuova puntata della Repubblica, una puntata in cui vi documenteremo la venuta a Casoria del vicepresidente della Camera Ettore Rosato, che ha incontrato il sindaco Raffaele Bene, non nuovo a incontri istituzionali, dato che già nello scorso aprile ha firmato con il governatore della regione Campania i PIX il piano integrato città sostenibile, che prevede numerosi investimenti nella città di Casoria. Adesso quindi la filiera istituzionale arriva fino in Parlamento. ...al servizio degli amministratori locali, al servizio di un sindaco che combatte per la sua comunità, che si intesta le battaglie più difficili, perché poi i sindaci si intestano le battaglie più difficili. Parlare di sesto, assumersi le responsabilità del sesto è la responsabilità di un amministratore che vuole bene la sua città. Il problema sono quegli amministratori che non si assumono la responsabilità di sesto, perché non si arrivano a tenere la testa girata da un'altra parte, senza guardare quello che succede nella loro città. Ma chi si assume la responsabilità ha bisogno che le istituzioni regionali e nazionali siano più vicine a tutelare, ad aiutare, a sostenere, a mettere in campo quegli strumenti legislativi, amministrativi, economici che consentano di rimettere in sesto un'amministrazione che si occupa di 80.000 cittadini del nostro paese. Unità che ci darà il punto di andare a trattare, di che ci metteranno nella convenzione di essere l'unica in realtà, strategicamente predisposta a poter fare i primi rischi. Quindi, e ciò ci consentirà anche di recuperare l'identità che in qualche modo questa città ha perduto. E ci porterà, quindi, ad una serie di investimenti strutturali che potranno, nell'ottica della sostenibilità, condurci nel passaggio da un'economia interattere lineare ad un'economia circolare. Il cammino di crescita della nostra città sarà più abito e farà sì che Casoma possa tornare ad essere il comune di riferimento di un'intera area territoriale. Come abbiamo visto, sia il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, hanno rimarcato l'importanza di intervenire in maniera significativa sul territorio di Casoria, un territorio che vanta quasi 80.000 abitanti, che ha necessariamente bisogno di finanziamenti e di investimenti massicci, poiché ha tutte le potenzialità per aumentare notevolmente il livello della qualità di vita. Arrivederci alla prossima puntata della Respubblica. Grazie a tutti.